Uberto Lupinetti, tu sei della Fise Lombardia, ma la Dallari non è meglio che scenda da cavallo? Sicuramente per il cavallo sarebbe meglio. Federazione, commissariato, 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 da chi la diamo in mano? Comunque la Senata Dallari non è nei miei pensieri, per cui... Ma penso neanche di quelli di tutti gli appassionati. Credo, con quello che è successo direi. Con quello che è successo. Uberto, ma non è ora che si vada le elezioni? Beh, direi di sì, insomma. Bene, commissario, però adesso ci manca la parte sportiva, per cui spero che si vada presto. Presta le elezioni. Certo. Grazie, Uberto. Sei Priscella. Ciao, grazie.